buongiorno da btv news oggi 11 novembre san martino e della giornata mondiale dei single la festa origini cinesi e non va confusa con san faustino l'italianissima festa del 15 febbraio che segue san valentino e porta il nome del protettore dei single la giornata dei singoli in inglese single day nasce nel 1993 in cina in ambito universitario precisamente nell'università di nanchino per celebrare l'orgoglio di essere single la scelta della data l'11 novembre tutt'altro che casuale visto che il numero simbolico dell'individuo solitario si ripete ben quattro volte col tempo però questa ricorrenza soprattutto in cina ha cambiato significato ed è diventata l'occasione per sposarsi sono infatti migliaia delle coppie che ogni anno scelgono l'11 novembre per convolare a nozze